Presidente, un commento su questo spettacolo? Mi pare molto coinvolgente, riuscito dal punto di vista di trasmettere un'emozione fortissima e attraverso l'emozione dare ragione della causa per cui tanti uomini e donne di valore hanno speso la loro vita in questa lotta contro la mafia. Si capisce bene cosa c'è dietro e anche questi valori che vengono trasmessi attraverso grandi testimonianze religiose sono indicative di quel sistema di valore che anche la politica ha saputo prima nei suoi momenti alti, il sindacalismo, la militanza di una sinistra che ha tentato di salvare la Sicilia come antituto forte alla mafia, che si annida nelle malvagità del cattivo potere.